Nella prosa mi chiudono come quando bambina mi chiudevano dentro lo stanzino perché volevano stessi tranquilla tranquilla avessero potuto sbirciare vedere la mia mente che frullava tanto sarebbe valso rinchiudere un uccello per tradimento dietro uno steccato basta che quello voglia e pronto come stella guarda dall'alto la sua prigionia e ne ride lo stesso accade a me nelle storie ci sono bambine di tutti i tipi bambine golose bambine un po litigiose bambine stupite bambine tristi bambine affamate bambine spericolate bambine trasognate bambine pasticcione bambine trasandate alcune di loro ci sembrano perfette perché sono principesse alte ed eleganti altre perché hanno le ali e indossano abiti sgargianti ma non è di loro che parleremo certo alcune sono principesse ma piccole così come caterina che da bambina era così minuscola che tutti la prendevano in giro ma si è messa in viaggio ed è riuscito a sconfiggere un enorme drago e a mettere in fuga tutti i terrificanti condor o sono principesse come lucilla irriverente spavalda che non aveva paura nemmeno del mostro peloso che se la voleva mangiare anzi rispondeva per le rime ad ogni sua frase smettila cosa credi peli sui piedi io li mangio i marmocchi peli sugli occhi alla fine è esploso dalla rabbia quel mostro peloso e si è trasformato in un bellissimo principe oltre alle bambine principesse ma piccole così ci sono anche bambine streghe e bambine fate e ci sono pure bambine un po streghe e un po fate come clotilde che non ha ancora deciso se essere l'una o l'altra perché le streghe si divertono a trasformare i principi in ranocchi mentre le fate si divertono a ritrasformare i ranocchi in principi ormai avete capito è di bambine speciali che parleremo bambine speciali come te e te e te e tutte voi che state guardando e non importa che siate principesse o fate o streghe o tutte e tre le cose insieme mettetevi comode stiamo per cominciare le bambine di cui parleremo vivono nelle pagine dei libri e nelle storie animate tra loro c'è Alice che ormai stufa di starsene seduta accanto alla sorella maggiore quando vede con sua grande meraviglia un coniglio bianco con gli occhi rossi passarle accanto tutto frettoloso tutti voi sapete o saprete presto cosa succede ad Alice dopo che si addentra nella tana di bianconiglio ma forse non conoscete Bibi e le sue avventure Bibi è una bambina con un paio di gambe lunghe lunghe gli occhi azzurri e i capelli piondi ed è molto indipendente ha attraversato il suo paese la Danimarca in lungo e in largo un po in treno e un po in bicicletta e lo ha fatto da sola senza adulti intorno ora vorrebbe conoscere tutto il mondo ha già in mente ogni dettaglio per prima cosa prenderà uno stallone bianco e visiterà tutti quei posti dove la ferrovia non arriva lo stallone sarà come Sleipner che aveva otto zampe quattro sul dritto e quattro sul rovescio così quando si stancava da una parte bastava capovolgerlo anche Chamsù Sabà come Bibi vorrebbe esplorare il mondo che conosce solo attraverso libri e racconti ma è una principessa e le è proibito deve trovare una soluzione e presto Non a palazzo non avreste tempo di arrampicare ingeli ALEGENATI se la porta è sbarrata siamo perduti wow che fortuna chiam su sabà è riuscita a togliersi dai guai chissà se riuscirà a fare lo stesso betta che per il suo quinto compleanno vorrebbe tanto una bicicletta vera ma non un triciclo come quello che le hanno regalato quando aveva tre anni ma dal momento che nessuno gliela regala una bicicletta beh si decide di rubare quella della signora Bergman tanto poi gliela renderà indietro betta però è piccola e la bicicletta davvero troppo grande la cosa più difficile è salire in sella poi betta sfreccia veloce come una saetta lungo la discesa ma la bici non sa frenare e betta neanche così la bici si va a fracassare su una siepe mentre betta fa un lungo volo e capitombola proprio sopra un cespuglio di rose ma non si dà per vinta e continua a provare e riprovare finché impara ad andare in bici anche senza mani o quasi finora abbiamo incontrato principesse piccole fate e audaci streghette bambine sognanti bambine bambine avventuruose bambine determinate ma esistono anche bambine forzute bambine in grado di sollevare perfino un cavallo certo che sì pippi calzelunghe è così potente che è riuscita a battere perfino Adolf l'uomo più forte del mondo lo ha agganciato sollevato lanciato in aria e infine messo al tappeto chi di voi saprebbe fare altrettanto? io non ho di certo ma qualche volta quando i grandi non vedono provo a mangiare come pippi e lavarmi come lei con la testa immersa nel catino per sentire l'acqua che mi entra nelle orecchie certo però che fatica essere bambine e per di più bambine speciali basta voglio crescere è ora di diventare grande pensa la piccola principessa segnando una nuova tacca sul muro ma come faccio? forse dovrei essere diversa la principessina chiede consiglio agli adulti e scopre che per diventare grande deve essere gentile affettuosa e pulita ma non basta perché oltre ad essere gentile affettuosa e pulita deve anche essere coraggiosa brava a nuotare e sana come un pesce le risposte però non convincono del tutto la principessa che chiede alla sua cameriera come bisogna essere da grandi? non lo so però credo che la domanda importante sia questa tu cosa vuoi essere? tu cosa vuoi essere? io voglio essere alta ma tu sei già alta dice il principino di avventura in avventura di sogno in sogno si è fatto tardi è ora di dormire ma quando arriva il buio Alice vorrebbe ancora giocare così invece di avere paura con un grande salto attraversa la stanza e lo prende sotto braccio poi cominciano a ballare a ballare a ballare ma quando sono stanchi e assonnati Alice spegne la luce e buio sa che è tempo di dire buonanotte e qui questa storia finisce o forse comincia stretta la foglia lunga la via dite la vostra che ho detto la mia nella prosa mi chiudono come quando bambina mi chiudevano dentro lo stanzino perché volevano stessi tranquilla tranquilla avessero potuto sbirciare vedere la mia mente che frullava tanto sarebbe valso rinchiudere un uccello per tradimento dietro uno steccato basta che quello voglia e pronto come stella guarda dall'alto la sua prigionia e ne ride lo stesso accade a me grazie a tutti 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 grazie a tutti